Sono Roberto Megazzini, direttore commerciale della PASO. PASO è un'azienda leader nel Pammocadre, sono mai nani, è nata dalle ceneri della mitica Genoso, che è un'azienda che dal 1931 parla di audio e oggi facciamo parte del gruppo dell'AFBT. È un'azienda italiana che ancora tenta disperatamente di produrre tutto in Italia. Ha aiutato anche dall'AFBT, altre aziende che produce, direi canali, che produce anche tutto in Italia. Il nostro business è nel Public Atlas e ultimamente nel Voice Evacuation System, che sono praticamente gli impianti di evacuazione abbinati all'anticendio e dedicati a mandare messaggi di allarme in caso di evacuazione. Vi presentiamo in questa fiera un nuovo sistema, il PA8005, che è un sistema che offre diverse soluzioni di architettura. Abbiamo un sistema compatto per gli altri più piccoli, abbiamo un sistema certificato e completamente flessibile per diversissime soluzioni. Il nostro mondo su cui ci rivolgiamo è la progettazione, chi deve progettare chiede aiuto basso e il nostro sicuramente trova un servizio a 360 gradi, dalla carta fino all'installazione e allo start-up.